buongiorno continuano le prove con l'oscilloscopio textronix 2445 150 megahertz di banda in questo caso stiamo provando con due generatori distinti entrambi hp questo generatore numero uno questo è il generatore numero due entrambi alla frequenza di 300 kg circa i due generatori sono sincronizzati da un oscillatore oven termostatato quindi le frequenze sono estremamente stabili in questo caso il generatore numero uno genera una frequenza di 300 punto 0 0 0 1 kilohertz praticamente la differenza tra i due generatori è di 0 1 hertz e si può notare la variazione tra un segnale e l'altro quindi non è una variazione di fase ma è una differenza di frequenza che provoca questo slittamento di segnale tra un generatore e l'altro se io imposto entrambe le frequenze uguali questo slittamento non c'è più però c'è una variazione di fase tra i due segnali questa è la terza prova con questo oscilloscopio grazie